Rosario, Michele, Dario, Copioso, Ventriglia, Pietrangeli, San Prisco, Curti, Santa Maria Capovetra, attore e regista, autore e attore, autore e attore. Abbiamo fatto una selezione per un festival nazionale in Calabria, faccia da bronzi. La prima semifinale sarà superata, quindi andrò in finale il 23 agosto a Reggio Calabria. Il prossimo obiettivo adesso è trascinarci anche lui in finale. Per Scaramazzia non si dice niente, quindi non mi trascinarei. Porca, non passerò più. Non per la Scaramazzia. Se non passa non vedete manco più. Ovviamente. Voliamo tutti e affondiamo tutti insieme. E nel frattempo, pure adesso, l'8 e il 9 agosto, affronteremo un altro festival, qui a San Gavrio Magno, vicino a Salerno. Cabareboli era il nome del festival e puntiamo anche a quello. Sempre Cabareboli, stiamo andando giù di scrittura e messa in scena. Sono festival abbastanza importanti perché da questi festival sono usciti i personaggi dello spettacolo, come ad esempio Michael Bublé di Made in Sud, i doppi a coppia di Uber Duo e tanti altri, insomma. Anche Gigi Ross, 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 Leonardo Fiaschi che adesso è l'imitatore di Rade 101. Sono comunque festival importanti, sono vetrine molto importanti. Vi ringraziamo per l'attenzione che ci avete dato. Ringraziamo ovviamente l'associazione e ciò che viene citato. Si, è la prima volta che ci intervisti in tre perché altrimenti... L'intervista l'avamo sempre fatto l'Udre e le smorte. Esatto. Ma dietro ci siamo anche noi. Ma per dare al pubblico ci sono ciò che vuole. Ah, anche al pubblico ci sono ciò che vuole. Esatto, esatto, esatto. Perché dietro nella telecamera c'era una persona. Certo. Ma non è Michele, quindi non sta a tre mani. Che non è Michele! Non è Michele! Non è Michele, non ha tre mani. Ma non c'è un pre-peppe, affanculo. Sta pre-peppe. Si, pre-peppe che ci ha invitato. Grazie a Michele, grazie a Michele. Grazie a Michele. C'è anche Reale che non c'era nulla. Io ho un primo tifoso. Io ho sempre bisogno di Romoli poi. All'occorrenza, insomma. Mi sembra sempre una controfuocolo. Si, se manca lui. Manca l'andare. Manca l'andare. Manca l'andare. Manca l'andare. Infatti sta facendo crescere la pelule. Si, si, si. Si nota quello. Se lo vedete di nuovo che rompe i coglioni. Un'altra volta. Un'altra volta. Esagerazione. Non mi però ti esagerare a fare questa cosa. Cioè io l'abbiamo detto. Pesta una selezione. Non ci ha cagato nessuno. Mi ha dato una selezione. Grande Michele. Mi ha fatto un pre-visualizzazione. Ti dodo un bel culo, capito? Mi ha dato un pre-visualizzazione. Vabbè comunque sei l'entrame nella finzione. Vabbè comunque sei l'entrame nella finzione. Vabbè tutti. Siamo contenti del Michele. Non siamo... Ringraziamo ciò che vede in città. 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 No, così almeno avrete. Sì. Abbiamo piaciuto tutti e tre. Grazie a ciò che vede in città. Altre è riuscito soltanto a lui. Esatto. Quindi ringraziatevi per vede in città. Ciò che 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 vede in città. Per li fatti conoscere. Eh sì, vabbè. Possiamo partire. Sì, possiamo partire. Ragazzi. Un saluto. Un saluto. Vi vediamo aggiornati. Grazie a tutti. Ciao, grazie. Ciao.